Ciao, sono Noemi, grande fan da tanto penso se non si chiederebbe, le ho portato domande. La prima, complimenti per l'autom, ascoltando abbiamo notato che in alcuni brani ci sono tipo delle automizzazioni, ad esempio nell'automizzazione si possono dare un po' riporta alla sonorità dell'automizzazione, voglio sapere se per caso vi siete un po' ispirati al vostro ragione del passato per creare questo nuovo lavoro, e poi voglio dire un'altra cosa, prima è stato scenato a chi premerà la musica, voi avevate detto che era un grande di quanto ragione, no? Sono un po' di cosa, vabbè, e voglio sapere che il vostro pensiero riguardo a questo artista proprio con i giorni di passato, se tantissimo lui è stato, la prima volta. Allora, sì, allora, allora no, per fare capire anche agli altri quello di cui stiamo parlando, c'è una frase, nel termine di questo disco che dice che è l'ultima frase che i Beatles hanno messo nel tuo disco, che dice, the love you make the simple to the love you make the simple. Il concetto, il concetto lo avete capito, insomma, l'amore che tu dai è esattamente proporzionale all'amore che tu ricevi. Era stato così bello questo concetto che abbiamo voluto fare questa citazione, e abbiamo anche voluto citare in un certo senso noi stessi, perché è un brano come chi fa dalla musica, e in un brano come musica si parla di questa musica che ci ha messo nuovamente in macchina assieme, no? E dice che nessuno definitivamente la può fermare, cioè, ai tecnici, ci chiedevamo chi può fermare la musica, oggi ne siamo certi, nessuno mai la ferma da questa musica.